Quando siamo in pace con noi stessi possiamo fare pace anche con gli altri e allora da lì possiamo instaurare un dialogo costruttivo e costruire insieme un mondo che piaccia a tutti, che non discrimini nessuno, che non condanni nessuno a perdere il lavoro, a perdere lo stipendio solo per un'idea diversa. La diversità non è un problema. E' una protesta pacifica quella dell'insegnante Diego Zannoli, 36 anni, di Rimini, contrario al Green Pass imposto dal governo. Non tocca cibo da nove giorni e beve solo acqua naturale per lanciare un messaggio forte e chiaro. Preghiera e digiuno per la pace, la salute e la libertà di scelta. Al professore che insegnava fisica ed educazione tecnica in varie scuole medie e superiori della zona, nel mese di settembre gli era stato proposto un contratto annuale con la richiesta di esibire il certificato verde, ma lui si era rifiutato di mostrarlo e da quel giorno è senza lavoro, ma continua a pubblicare quotidianamente foto e video della sua battaglia su Facebook, Telegram e Youtube affinché il suo appello possa arrivare a quante più persone possibili. Diego come sta e per quale motivo ha deciso di intraprendere questa scelta così forte e importante? Mi sento debole, mi sento un po' nel fisico giù di energie, però mentalmente sono veramente deciso di andare avanti perché qui c'è qualcosa di molto più importante, importantissimo non solo per me ma per tutti noi cittadini italiani, perché qui si sta distruggendo la base proprio della nostra democrazia, quindi io sono convinto di andare avanti. Il docente nei giorni scorsi si è presentato davanti alla prefettura di Rimini e all'ingresso del municipio, si è rivolto alle istituzioni locali e nazionali, alla stampa e alle televisioni aspettandosi una risposta che però non è mai arrivata. Le persone con cui ho parlato mi hanno detto guarda io sono d'accordo, sono d'accordo, quindi insomma non capisco perché non ci sia stato questo riscontro. Qui siamo di fronte a un vero e proprio attentato ai diritti fondamentali di tutti i cittadini italiani, come persone innanzitutto, i diritti proprio anche sanciti dalla Costituzione se vogliamo parlare a livello giuridico, ma come persone, perché c'è un gruppo di persone a genitalia che a causa di una scelta politica, quindi non sottoporsi ad un siero obbligatorio, è condannata a rimanere a casa dal lavoro ma senza stipendio. Perché questo lo voglio dire, se, adesso parlo per me, ma non è solo per me la situazione, se io come insegnante avessi fatto del male ad un alunno mi avrebbero lasciato a casa dal lavoro, sospeso, ma con gli alimenti, perché devo vivere in Italia, la pena di morte, non c'è più per fortuna. Quindi allora qui che cos'è? Non è una motivazione sanitaria, perché senza stipendo? Qui è una volontà di schiacciare, cancellare gli oppositori politici, è così. Siamo tutti sulla stessa barca, ha precisato Zannoli, compreso chi si è visto costretto a cedere al ricatto perché magari ha un mutuo sulle spalle o una famiglia da mantenere. Anche tutti quelli che finora hanno seguito le indicazioni, che magari hanno fatto prima, seconda, terza dose, però ne conosco tanti che mi dicono guarda se mi chiedono la quarta io non la faccio. E invece no, non sei libero di scegliere, non sei libero di scegliere perché se non la fai anche tu vieni esiliato. Dobbiamo unirci, ha proseguito il 36enne, non è una questione di idee politiche diverse, ha aggiunto. Dobbiamo difendere la nostra Costituzione e decidere verso quale tipo di futuro vogliamo andare. La nostra è una grande repubblica, ha detto, e non una dittatura. Il messaggio di Zannoli è rivolto anche alla Chiesa. Al Papa, perché non può rimanere silente davanti a tutto ciò. La Chiesa non può rimanere insensibile davanti a tutto ciò. da persone condannate a morire di fame perché è così, di solitudine, perché non possono più fare nulla, entrare da nessuna parte, emarginate, senza lavoro, senza dignità, ma anche senza stipendio. Mi ha fatto delle battaglie anche solo per una persona, anche la Chiesa le ha fatte. Ed è giustissimo perché anche il valore di una vita è importantissimo. Però qui siamo molti di più, quindi non capisco questo silenzio, non lo capisco. Suppongo che continuerà questa sua battaglia, ma anche il digiuno? Certamente continuerò, certamente continuerò entrambe le cose, sia la battaglia che il digiuno. Io, come dire, è qualche cosa, veramente io sento in questo momento una fame molto più forte, che è quella proprio di ritrovare tutti i nostri diritti come esseri umani, come cittadini italiani. E quindi andrò avanti, perché questa fame è molto più forte. Grazie. Grazie. Grazie.